Se tu hai uno che pulisce le seppie in un pronto soccorso e licenzi il medico, giusto o sbagliato che sia licenziarlo, probabilmente lì andrebbe licenziato il direttore generale. Le parole pronunciate dal presidente della Commissione Sanità, Pierpaolo Sileri, sono arrivate a destinazione. Il direttore generale dell'ASP di Cosenza, Raffaele Mauro, incontrato a margine di un intervento al Master in Medicina d'Urgenza in corso all'Unical, risponde così all'esponente del Movimento 5 Stelle. Questo lo ha affermato il presidente della Commissione Sanità del Senato, che è anche un medico e un chirurgo, al quale io chiedo se un uscere del Senato fa pipì all'angolo, qual è la sua responsabilità? Il caso delle seppie lavate nel lavandino del nostro comio tirrenico è solo uno degli episodi che hanno attirato l'attenzione mediatica sull'azienda sanitaria di Cosenza. Altra questione è l'organizzazione della retta ospedaliera, un esempio il funzionamento e intermittenza della chirurgia nello SPOC Cetraro Paola. Noi abbiamo delle difficoltà che non sono soltanto di tipo organizzativo, abbiamo difficoltà di tipo strutturale. Stiamo mantenendo in piedi con enormi sacrifici e assumendocene ogni responsabilità che travalica i nostri compiti e le nostre funzioni, due strutture, un presidio ospedaliero a Cetraro ed un presidio ospedaliero a Paola, unicamente ed esclusivamente perché per attuare il DCA 64 del 2016 dobbiamo recuperare prima i requisiti strutturali e poi trasferire le unità operative che altrimenti non avrebbero l'accreditamento per via della carenza di requisiti strutturali. Perché i requisiti alla base dell'accreditamento sono di tre tipi, strutturale, tecnologico ed organizzativo. Noi, quelli strutturali oggi, dobbiamo recuperarli.